Ciao amici di Seinauto, oggi vi presentiamo questa splendida 600 Votti, appartiene al mio autosalone Alexauto in Torino, questa è una splendida autovettura, è nata nel 1963 e fa parte di una delle tante vetture che Votti ha trasformato dalla carrozzeria Fiat e su base Fiat 600, è una vettura che è stata restaurata completamente, dal 1963 ad oggi ha avuto solamente tre proprietari e l'ultimo proprietario l'ha tenuta per più di 30 anni, è una vettura che è stata restaurata nei minimi particolari, è stata portata proprio a zero di lamiera ed è stata rifatta tutta, è un lavoro che è durato parecchi anni, è una vettura splendida, è una vettura che si può guidare tranquillamente tutti i giorni, ricordo ancora che il motore della Fiat 600 quindi deriva dalla classica Fiat 600 che ha fatto storia in Italia perché è stata una delle auto più vendute, addirittura forse anche più della 500, anche se poi la 500 ha fatto più storia. Adesso possiamo andarla a scoprire nei particolari, andiamo a scoprire il suo vano a bagagli dove tra l'altro è posizionata anche la sua ruota di scorta e c'è naturalmente il serbatoio benzina proprio come le Fiat 600, anche all'interno è stata restaurata molto bene quindi l'auto è sanissima ed è comodo anche per posizionare poi qualche oggetto, per fare qualche viaggetto. Adesso andiamo a scoprire gli interni meravigliosi color rosso scuro, tra l'altro questa autovettura di particolare ha la sua radio originale che è difficilissima da trovare. Come potete vedere il tachimetro è il suo originale ed è quello proprio della classica Fiat 600 famosa quindi è facile riconoscerlo. Ha tra l'altro tutta la sua Mouquet color rosso che si abbina molto bene con il colore dei sedini e niente che dire è una vettura veramente piacevole e molto molto simpatica. Adesso ve la metto in moto così sentiamo il suo rumorino. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata io spero che questa macchinina simpatica vi sia piaciuta. Per chi fosse interessato eventualmente all'acquisto soltanto venirla a vedere può venire nel nostro salone all'ex auto a Torino in via Santa Maria Mazzarello 18 e sarete sicuramente graditi ospiti. Vi aspetto alla prossima puntata e mi raccomando non perdetela.